Ci hanno tolto tutto, niente scarpe, vestiti, cappotti, niente mutande nei reggiseni. Ci hanno tolto le sedie dove poggiare il culo, i tavoli su cui mangiare. Non abbiamo appigli, possiamo stare solo in piedi o rannicchiati. Dormiamo in piedi, mangiamo in piedi, pisciamo in piedi. Ci hanno costretto a stare dritti, protesi verso di voi, in fila indiana, in schiera, di fronte a voi. Ci hanno spinti qui dentro, non volevamo entrare, siamo stati costretti. Non volevamo entrare, o perlomeno non a queste condizioni. Una volta dentro non possiamo più uscire. Siamo condannati a restare qui, davanti a voi, in schiera, tremanti, precisamente spalla contro spalla. Equidistanti, gambe parallele, o perlomeno non a queste condizioni del posto non è. Siamo.